Siamo al Teatro Imperiale di Guidonia in compagnia di Alessandro Haber che stasera si esibirà nello spettacolo in concerto di parole, in Abemus Haber. Perché questo nome? Ma era un gioco, è uno scherzo, è un titolo inventato in un momento così. Abemus Papa, Abemus Haber, Abemus qualsiasi cosa, insomma, c'era un'assonanza piacevole a Abemus. Il messaggio principale di questo spettacolo? Ma è una serata di musica, reciterò delle poesie di Bukowski alternate con delle canzoni di cantautore, di pezzi poetici, pezzi pop naturalmente. Tutto qua è una serata, è un emozionarsi insieme col pubblico, è un gioco che io cantando provo delle emozioni che c'è voglia di trasmetterle al pubblico. Sono pezzi molto belli, sono pezzi da Insieme a te non ci sto più, a Margherita, alla Valigia dell'attore, è un canzone che mi ha scritto De Gregori, mi ha scritto per me, l'ho ispirato io. Poi dopo qualche anno l'ha fatta anche lui, insomma, da Vedrai vedrai a L'alberga ora. E poi alternato con delle poesie di un grande poeta che si chiama Cias Bukowski, un poeta di quelli trasgressivi, di quelli struggenti, uno che è stato sempre contro il prebenismo, lo establishment americano, contro l'ipocrisia, contro la falsità, a favore sempre di quelli che stanno peggio, insomma, è uno che ha sempre detto quello che pensava. Pensate, il primo libro che ha scritto l'ha scritto a 50 anni, dopo 30 anni di rinunce, perché non ha mai accettato, non accettava compromessi questo poeta, era un personaggio veramente fuori dai canoni. E qua ci assomigliamo un po', anch'io sono uno che, diciamo, in linea di massima questo lavoro lo faccio per amore, per bisogno, bisogno di comunicare con chi mi sta accanto, con chi mi sta davanti, insomma. Ecco, su questo siamo abituati a vedere Alessandro Haber tra musica, teatro e cinema. Dove riconoscete più il suo talento in queste... Se mi sono messo a cantare vuol dire che so cantare, nel senso che nel mio DNA c'era pure questo. Però, certo, anche fare teatro e cinema è musicalità. Recitare o, a me la parola recitare non mi piace, vivere un personaggio è musicalità. E l'ho scoperto, ma sono troppo lungo da raccontarvi tramite Roccasulli, che un giorno mi ha sentito cantare per sbaglio così in un piano bar, e ho detto, ma a cazzo, come canti Haber? E l'hai nata l'amicizia, il primo disco, insomma, tutto un po', un po', un po', ci vogliono ore e ore di trasmissione, ci vogliono per raccontare tutto. Ma ogni tanto mi piace fare i concerti e esprimimi a mettere verso la musica. Sappiamo che lei è figlio di madre cristiana e padre ebreo. Sì. Il suo rapporto con la fede? Il mio rapporto con la fede c'è sicuramente qualcosa. C'è, bisogna pensare che c'è qualcosa, se no tutto questo non ci sarebbe, insomma. Tra l'altro ho fatto uno spettacolo per due anni, il prossimo anno lo riprendiamo, che si chiama Il visitatore, di Eric Manosch, Mitoviem, tra la figura di Freud, un ebreo ateo, e Alessio Boni fa Dio. C'è uno scontro-incontro fantastico, fra due mondi così e gli opposti, no, Freud? E' uno che è sempre uno scienziato, credere nella scienza, mentre non credere in tutto ciò che è amore, Dio, al di là, per cui però arrivo a 82 anni e sente forse, è come se chiamasse un suo, sente che la morte sta arrivando, per cui chiama un suo doppio, che è questo Dio, che potrebbe essere Dio. E' uno spettacolo meraviglioso, dove l'argomento principale appunto è la fede, la non fede, credere, non credere, l'amore, il male, il bene, per cui un argomento di grande attualità. Si ha vissuto molto nell'ambito del teatro e del cinema. Chi vede oggi in Italia, emergente, che può portare il nome del cinema italiano? Io, io. Grazie. Grazie. Grazie.